Non so come mi hai convinto a farmi ritrarre nuda. Non parlare tesoro, altrimenti lo distrai. Ah, non fa niente. Ho quasi finito. Un po' più di luce sui fianchi. Santo cielo, perché non ci hai pensato prima che mettessi al mondo due figli? Sei sempre favolosa. Ok, credo... Sì, ho finito. Venite a vedere. Non ce la faccio. Prima tu. No, lo guardiamo insieme. Non capisco. Io credevo che... Cosa diavolo è? Tesoro, lascia stare. Non è quello di cui abbiamo parlato e che ho pagato. Riesco a capire. È uno dei miei lavori più riusciti. Mi ridia i miei soldi. Questo non è uno studio fotografico di un grande magazzino. E questa non è mia moglie. Sì che lo è. Invece lei mi ha chiesto di dipingerla esattamente com'è. Ed è quello che ho fatto. Tesoro, lascia perdere. Ma che succede? Brandon! Lasci l'assegno nella mia cassetta delle lettere entro venerdì, altrimenti torno. Andiamo. Cos'è successo? Non lo so. Hanno visto il quadro e si sono infuriati. Brandon, questo cos'è? E come sarebbe il suo ritratto? Cosa ha che non va?